Ciao ragazzi, finalmente sono usciti i nuovi top di gamma di casa Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra Allora, sono uscite anche le nuove Samsung Buds con il regalo, i Samsung Tag che ora andremo a vedere Galaxy S21, schermo Full HD a 120Hz, finalmente abbiamo la possibilità di cambiare lo schermo più di come sull'S20 in cui si doveva per forza passare a un Full HD per avere la possibilità di passare a 120Hz Ora abbiamo la possibilità anche in Full HD di stare a 120Hz Processore Exynos 200 a 5nm, infatti il processore non riscalda, finalmente è una buona notizia per Samsung Dicono questo, speriamo di provarlo presto e vorrei capire se veramente non riscalda questo telefono Poi abbiamo una batteria da 4000mAh, memoria interna da 128GB, non espandibili quest'anno ma se volete invece la memoria espandibile trovate sull'S20 Ragazzi, se avete un S20 il passaggio da S20 a S21 non cambia molto, perciò vi consiglio di attenere il vostro S20 normale Poi abbiamo una fotocamera a 12MP, la principale, ultra grandangolare da 12MP e 64MP Abbiamo l'S21 Plus in cui abbiamo sempre la memoria da 8GB di RAM, 128GB di memoria interna Però vi dico, la scocca dietro è la possibilità di avere finalmente un schermo sempre Full HD a 120Hz Processore lo stesso per tutte e tre Abbiamo una fotocamera da 12MP, una da 10, un'altra da 12 e un'altra da 12, non cambia molto da questo punto di vista L'unica cosa che cambia è la batteria e un miglioramento dal punto di vista del display Abbiamo un display da 6.7 pollici contro l'S21 da 6.2 pollici La novità è l'S20 Ultra Infatti l'S20 Ultra mostra una fotocamera principale da 108MP Un premore interno da 12GB di RAM Tutte e tre presentano i 5G Infatti mi piace molto che non c'è la possibilità di scelta tra 4G e 5G Ma solo 5G Poi abbiamo una memoria interna da 128GB Fino ad arrivare ai 512GB Per i prezzi stanno qui giù in descrizione Ve le rimango Uno schermo da QHD rispetto ai modelli S21 e S21 Plus E poi abbiamo anche una batteria da 5000mAh Infatti la batteria dura, dicono molto Sperando anche per migliorata da più energetico E poi potete ordinare entro il 28GB in preordine Uno di questi tre grandi telefoni Su Amazon che trovate anche la custodia di ricarica con le cuffie Perché sappiamo che quest'anno Samsung non ha messo il caricatore e le cuffiette Una novità che a me non mi sta piacendo moltissimo Infatti Samsung sta seguendo Apple o altri produttori Che stanno mettendo questa iniziativa di non mettere il caricatore e le cuffiette nelle cuffie Però se le volete acquistare anche il caricatore incluso Amazon lo vende Una soluzione molto utile secondo me Comunque invece se le acquistate per esempio dentro dei negozi Non trovate né caricatore né cuffiette Comunque le Samsung Buds Plus Che sarebbero delle cuffiette uscite da poco A un prezzo di 229€ Il prezzo è alto Ma la qualità delle cuffiette è altissima Abbiamo tre microfoni Sette o otto ore di autonomia Durano moltissimo E sembrano poche Ma sono tantissime le cuffie così Touch Nuova funzione in cui possibilità di riduzione del rumore In cui abbiamo possibilità di riduzione del rumore All'esame su Buds Plus In cui possiamo dire di rumore esterni O non me le togliere È una funzione che a me piace molto come assistente vocale Perché si doveva fare manualmente Ora no Con Buds Live Plus Sono migliorate dal punto di vista anche come si mettono nell'orecchio E abbiamo anche l'esame su LiTag In cui abbiamo la posizione Eccoli qua In cui abbiamo la possibilità di Di mettere quando andiamo nello zaino Abbiamo la possibilità di metterli andando a scuola In caso perdete le vostre cuffiette Le potete ritrovare facilmente È veramente una funzione Che a me mi sta piacendo moltissimo Che a me piace molto E si attiva da telefono In cui per esempio vedete le cuffiette Per strada Per In casa Potete utilizzare questa applicazione Grazie alle Samsung Tag Che costano sui 32 euro In cui avete la possibilità di mettere Questa funzione Che è veramente molto molto utile In cui trovate sicuramente le vostre cuffiette E passiamo alle conclusioni Tutte e tre top di gamma Molto utili Memoria finalmente processore Exynos 2100 Con chip migliorato del 30% Nuove funzionalità nella fotocamera Non posso farvi vedere perché non tengo il telefono Se volete un telefono S21 S21 Plus Di buona qualità Prezzo non troppo elevato come L'S21 Ultra Ve lo consiglio Se avete la generalità Di un telefono Fotocamera Velocità Abbiamo anche La possibilità di Utilizzare La S Pen Però ragazzi Vi ricordo L'S Pen Come tutti stanno aspettando Questa S Pen Non ha le gesture Del Note 20 Per esempio Non potete per esempio Usare la penna via bluetooth Non potete utilizzarla Per esempio Facendo un click Sulla penna Ma è Una penna normale Però ci sono tutte le cose Che potete utilizzare Ad esempio Scrivere Utilizzare la penna È una cosa molto utile È una penna uguale Quasi Quasi Come il Note Che potete utilizzare È una custodia È una custodia a parte Da acquistare In cui ci sta questa penna Infatti È una cosa molto Utile Che Samso sta facendo Quest'anno E che spero Che riesca A continuare Con il suo Percorso Allora Una cosa che mi lamento Con Samsung È il caricatore E le cuffiette Se uno Tiene un telefono Da 100 euro E passa da 1 a 700 O uno Se ha un telefono Di fascia Medio alta Fascia media O un telefono Ad esempio S10 S20 O S3 S4 Addirittura Non ha il caricatore A presto Dovrebbe comprare Sia le cuffiette Sia il caricatore Ragazzi Samsung Quanti soldi Dobbiamo spendere Per questo tipo di cose Questo Mi domando La verità Comunque La SD È scheda SD Non messa Non espandibile Memoria Sono 128 256 E 512 Giga Di memoria interna Spero che Sceglierete In base Alle vostre esigenze Quanto a memoria interna Volete Da un telefono E Il design A me mi è piaciuto molto Spero di provarlo presto Uno dei migliori Che mi piace molto È Le Samsung Buds Live Buds Plus Mi sono scoperto di tipi Che sono I certificati IP67 Miracolo Le prime cuffie Top di gamma Essere certificate Se non mi sbaglio Dalla Samsung E Che Si stenta all'acqua Per esempio Anche per esempio I squizzi d'acqua Sotto la pioggia Molto pesante Che Samsung Ha mirato tanto Sia le Samsung Live Sia le Samsung Plus E Comunque ora anche Con l'aggiunta Del Del Tag Samsung Tag Si chiamano Le trovate su Amazon Le trovate anche nei negozi È 32 euro Disponibile da 29 gennaio Veramente Potete fare anche preordine Come vi ho detto Entro il 28 gennaio Una soluzione Molto Molto Utile Ragazzi Con questo è tutto Queste sono tutte le notizie Sui nuovi top di gamma Di casa Samsung Ci vediamo al prossimo video Like Commentate Iscrivetevi al canale E con questo è tutto Da vostro Tecno GG Ciao Ciao Bye Ciao Mama Grazie a tutti